Allora, questa mattina a seguito di un'esplosione siamo intervenuti con tutte le forze dell'ordine e tutti i servizi di sicurezza per ripristinare la situazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti, è stata danneggiata un'abitazione che è ovviamente inagibile, sono state sfollate 27 persone, si sta dando l'assistenza alle persone invalide e alcuni disabili che abitano in zona e quindi viene fornito loro il pasto. Intanto tutte le squadre sono al lavoro per riparare il guasto perché è stata una rottura di un tubo del gas che si è infiltrato nella fognatura. Quindi il controllo adesso dei vigili del fuoco è quello di verificare che non ci siano sacche di gas all'interno della rete fognaria. Quindi la zona è stata prontamente isolata, sono state chiuse le strade, sono state chiuse due scuole, una scuola primaria e una scuola dell'infanzia, allontanati i bambini che erano presenti perché erano poi arrivate alle 8 del mattino. Quindi la situazione in questo momento è sotto controllo, si auspica che in serata le persone possano rientrare in casa e che tutto torni alla normalità. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone.